Appena firmato, cosa ne pensate di questa raccolta firme organizzata dalla Lega? Beh, è una battaglia chiara, univoca, che va incontro a quelle che sono le richieste dei cittadini. Sostanzialmente tutela i nostri diritti e anche nel modo più elementare, perché stiamo subendo una spogliazione vera e propria che non ha precedenti nella storia. Ce n'è uno in particolare che è la spinta a venire qui, un tema, un argomento di referendum? Ma, ognuno ha le sue classifiche. Sinceramente, anche guardandoli, se possono commentare così, la riforma Fornero al momento non mi riguarda, avendo 42 anni, quindi la legge Merlin, trovo che sia giusto che persone che guadagnano molto paghino le tasse come noi lavoratori normali, non è che voglio penalizzare nessuno, però normali. I concorsi per gli immigrati trovo assurdo, dovrebbe esserci il merito e comunque la precedenza a chi questo paese l'ha costruito. La legge Mancino è un obbrobio, perché se va a punire le idee vuol dire che ci vieta di pensare. Le prefetture sono il controllo del partito romano-centrico sul territorio, quindi come si fa a scegliere? Sono tutti perfetti. Questo referendum, questa raccolta firme, cosa ne pensi? Questi referendum, perché sono cinque cose importantissime, perché ne va della nostra esistenza qui nel nostro Veneto, nella nostra Padania, perché la cosa importante è che le cose siano chiare. Chiarezza da parte del governo italiano, di qualsiasi tipo di governo, non l'avremo mai. O ci organizziamo da soli, altrimenti veramente abbiamo, per noi e per chi verrà dopo di noi, la cosa finita assolutamente. Queste sono importanti, però forse la madre di tutti i referendum è quella dell'indipendenza. Ma io ho già firmato per l'indipendenza, ma non per l'autonomismo, per l'indipendenza del Veneto, perché lo Stato Veneto deve ritornare a essere padrone. Noi siamo gli eredi della Repubblica Serenissima, con grande orgoglio, cerchiamo di portarlo avanti sempre.